Traegniamo il Paese, questo dicono i dati, continuiamo a crescere, nonostante le difficoltà che ci arrivano dall'esterno, abbiamo parlato del continuo aumento dei tassi di interesse per cui le difficoltà di accelerare il credito, abbiamo parlato che in alcuni settori c'è ancora il problema del costo energetico, ma continuiamo a farlo, se posso dirlo, anche nella difficoltà di concorrere insieme alle altre regioni produttive europee in maniera diversa perché gli altri godono già di autonomia di competenze, di autonomia fiscale ed è quello di cui abbiamo tanto bisogno per continuare a trainare tutto il Paese. Direi che sono dati positivi perché l'artigianato e l'industria crescono, continuano a crescere, è vero che rispetto al trimestre precedente crescono poco, però rispetto a un anno fa crescono in maniera significativa. Faccio un esempio, l'export, le aziende lombarde, ricordo che la Lombardia esporta un terzo dell'export del Paese e il coefficiente di esportazione che al 31 dicembre era al 38,6 in questo trimestre sale al 39,3. Credo che siano fattori importanti come quello della produzione che cresce ulteriormente del 2,5. Indubbiamente ci sono problemi, ci sono i problemi che abbiamo visto, la guerra in Ucraina che continua a perdurare con tutte le sanzioni conseguenti, l'inflazione è vero che è diminuita, è rientrata da oltre il 10% all'8 ma incide sui costi delle aziende come il caro energia, come il caro delle materie prime. D'altro canto le aspettative degli imprenditori sia industriali che artigiani confermano che l'imprenditore guarda in maniera serena ai prossimi tre mesi. Per quanto riguarda l'artigianato, malgrado quanto si diceva, invece i dati sono positivi anche il primo trimestre del 2023, abbiamo forte preoccupazione per le imprese nel settore dell'edilizia che vedono tutti questi crediti fermi, incagliati, hanno bisogno di liquidità per poter continuare a pagare gli stipendi dei dipendenti, le materie prime. Grazie.